Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Kiroi1984. Oggi vi voglio fare una fast review su un fumetto di un autore che adoro particolarmente. Sto parlando di Ikari Man, di Hideo Yamamoto, di cui al momento in cui sto registrando il video sono usciti tre volumi. Questo è il secondo e questo, con la copertina molto molto diversa rispetto a quell'altra, che vira sul giallo rispetto al grigio delle prime, è il terzo volume e il quarto credo sia in uscita, proprio al momento in cui sto registrando il video. Avevo moltissime aspettative su Ikari Man e non del tutto queste aspettative sono state ripagate. Come mai avevo delle aspettative? È presto detto, perché appunto, come dicevo prima, Hideo Yamamoto è un autore che adoro. Un mangaka che ho conosciuto con l'opera Ichi The Killer, davvero bellissima, c'è anche una recensione sul mio canale di qualche anno fa, a cui mi avvicinai dopo aver visto il film diretto da Takashi Mika e tratto proprio da questa opera, anche esso un'opera davvero stupenda, e soprattutto un'altra sua opera che è Omunculus, che ho davvero adorato alla follia. Penso sia il suo manga migliore. Quindi mi sono avvicinato a Ikari Man, bramandolo per tantissimi anni, ed ero davvero contentissimo quando Planet Manga lo ha annunciato. Solo che queste aspettative, purtroppo non sono state proprio ripagate in pieno. L'opera parla di un ragazzo, quello che abbiamo visto nelle varie copertine, che è questo qui, Ikari Shirochi, che si vede appunto qui nella prima pagina, che è un ragazzo perseguitato dai bulli, che viene sempre bullizzato a scuola, tutti lo trattano male, non ha amici, con le ragazze ovviamente neanche a parlarne, nessun tipo di relazione. L'unica cosa che lo fa sentire vivo, se così vogliamo, che gli dà un minimo di gioia, è il suo armeggiare un pochino con i computer, con le console, insomma con la tecnologia. Proprio questo suo rapporto con la tecnologia sembra però una sorta di arma a doppio taglio, perché infatti spesso gli capita proprio di prendere la scossa quando si trova ad azionare degli interruttori o cose del genere. Però non gli porta solo cose negative, perché a un certo punto gli succede una cosa davvero stranissima, praticamente lui cade all'indietro e va ad impattare con il collo su una sorta di presa scoperta, una placca insomma dove erano montati dei chip, dato che nella sua cameretta sono sempre presenti dei computer aperti su cui lui armeggia, e questa cosa gli dona una sorta di potere particolare che gli permette di diventare Ikari Man, l'uomo di luce, in pratica un potere che fa trasferire il suo corpo in un corpo separato, fatto essenzialmente di luce, che può passare quindi attraverso i cavi dell'elettricità, o attraverso tutto quello che richiede l'uso dell'elettricità, mentre lui lo comanda semplicemente dalla sua cameretta come se stesse giocando a un gioco picchiaduro qualsiasi, e questo come potete ben capire li tornerà molto utile dal momento che potrà sfruttare questo corpo fatto di luce per poter prendersi finalmente anche una sorta di rivincita con tutti quelli che lo hanno sempre bullizzato, solo che ovviamente ci saranno anche dei lati negativi, infatti come tutte le cose elettroniche questo corpo ha una sua durata, quindi come se avesse una batteria, e questo spesso lo lascia in delle condizioni e soprattutto in delle situazioni non proprio piacevoli. Quindi una trama molto originale, che mi è piaciuta, sicuramente un ottimo incipit, un ottimo soggetto, solamente che rispetto a Ichi the Killer e soprattutto ad Omunculus l'ho trovata leggermente priva, almeno per ora, di una grande introspezione psicologica, come era invece nelle opere precedenti dell'autore. Ci vengono sì presentati i personaggi dei nemici, quindi i bulli, e del ragazzo protagonista, quindi il bullizzato, la vittima, però personalmente non ho empatizzato con lui tanto quanto avevo fatto con i protagonisti delle opere precedenti di Yamamoto. Anzi, per quanto riguarda proprio il lato più sentimentale ed empatico, mi ha lasciato piuttosto freddino, e in più ho notato anche una sorta di involuzione nel disegno dell'autore, che, credo, in quest'opera, stia sperimentando un pochino di più con il digitale rispetto a quelle precedenti, e probabilmente proprio questo fa sì che magari non si trovi proprio a suo agio completamente, al 100%, e a mio modo di vedere questo poi si riflette nel disegno finale, che secondo me perde un bel po' rispetto al tratto davvero magnifico usato in Ichi the Killer e Omunculus. Credo che, a conferma del fatto che quest'opera comunque, seppur bella e piacevole per chi ama un certo tipo di opere mature e che trattino anche temi molto importanti, come appunto il bullismo, che è una costante nelle opere di Yamamoto, un autore che parla sempre dei più deboli, dicevo appunto il fatto che comunque quest'opera sia indubbiamente inferiore alle precedenti due opere dell'autore si riflette anche nel fatto che durerà solamente sette volumi, mentre le altre erano decisamente più corpose. Nonostante questo però Ikari Man, lo consiglio comunque a tutti quelli che hanno amato le precedenti opere dell'autore, e anche per chi non le avesse lette non si tratta certamente di un'opera scadente, anzi, tutt'altro, il mio giudizio è appunto basato più che altro sul confronto con le altre opere dello stesso autore. L'edizione è buona, normale e con sovracoperta, di formato abbastanza grande rispetto ai soliti Tankobon, e viene 7,50€ per Planet Manga. Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate, se a voi è piaciuto, e se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividetelo sui social e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere nessun video. Qui sotto nel box informazioni trovate tutte le info utili per aiutare il canale, quindi fare donazioni o altro, e per seguirmi sui vari social, tra cui Instagram e Twitch dove sono molto attivo ultimamente. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!